e ben ritornati ragazzi in questo nuovissimo video sono nino panino e oggi siamo insieme ad alfred che è nella parte dei command block stranamente ora è tornato a casa oh ragazzi forse ho fatto male a prendere quel pezzo di redson ed hai rotto un pezzo di redson no non posso ok alfred non mi preoccupi oggi siamo su poppy playtime su minecraft proprio uguale cioè aspetta allora qua intanto dobbiamo andare avanti e come vedi no vabbè è proprio uguale io so come si fa ok allora dobbiamo fare così poi così vabbè dobbiamo tornare indieta ma che no ma dai ma dovevamo vedere i primi trenini scusa va bene che ci hai giocato ma volevo vedere la stanza dei trenini e abbiamo fatto un video intanto e quindi adesso tutti stai zitto stai zitto non dire così allora serve la cassetta metto io stavolta prendo io intanto la è quello che abbiamo visto stavolta ok allora io voglio prendere siccome abbiamo già giocato sta mappa però vabbè adesso non sono cose che non parte non parte non parte se roba e ci deve avvicinare la televisione guardare la ah è vero che cavolo allora la mano eccola ok hai le mani in lì hai una mano a pesca con l'amo a forma di mano alfred 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 stai fermo guarda 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 che figo no alfred guarda che bello alfred è un attimo devo farti una foto è bellissimo alfred sei un pollo c'è la mano in testa aspetta che la uso come copertina aspetta questa no no alfred la uso come copertina questa guardami guarda che ti faccio una foto ci aspetta no vabbè è bellissimo guarda guardami guardami non girare alfred stai fermo ok basta perfetto andiamo via andiamo andiamo qua devo usare la mano aspetta devo togliere l'audio l'abbiamo usata l'abbiamo usata eccolo è cosa è wagi wagi è lui è mio cucino è mio nonno dai fai vedere perché non hai pagato la bolletta dell'ener lascialo stare a tuo nonno no è data via la corrente non si appare come nel gioco originale c'è la chiave qua dov'è? dobbiamo aprire la porta mi sa non te l'ha data la chiave mamma oh qua qua la chiave prendi la chiave prendo io come si fa? non mi fa prendere la chiave sei in mezzo alfred presa me la dai a me la chiave almeno? andiamo andiamo allora ah si qua lo so qua è uguale dobbiamo prendere la cosa dei 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 cosi l'ho fatto prima io quindi ovvio che sai come si fa no stai zitto alfred stai zitto allora dov'è che dobbiamo andare? dov'è? ecco è andato? è andato? è andato? ehm si ok è andato è andato è andato a bere il cappettino ma ma scusa non era qua prima lui? è andato a bere il cappuccino appunto dai apri la porta apri la porta va bene va bene non capivo cioè scusa no è andata apriti se ok allora c'era una mano c'era una mano alfred c'era una mano anche detto dipinto falso come dipinto? quindi allora qua dobbiamo prendere i cosi te li ricordi? no no non fregarti di tutti te disgraziato trovato dannazione a te trovato no stai prendendo tutti i cosi mi servo no trovato dai si sei presi tutti trovato quello blu ahahah si dottore ah dannazione a te me li dai allora il primo lo so che il rosso si chiama mela no come mela l'altro io ce l'ho patata la mangio io la mangio ok dai come si fa oh cavolo mi sa che l'ho mangiata davvero oh no ah ok si adesso la prendo io ma si ma si ma la prendo davvero se la prendo io adesso no dannazione no no vabbè andiamo ecco qua ecco ha fatto andiamo andiamo nei condotti brutti condotti ah qua dobbiamo fare ah si qua faccio io faccio io qui dove faccio più o meglio io sono più bittime in tutto fatto me l'ho fatto anch'io me l'ho fatto no non è andato si è andato no no me l'ho fatto me l'ho fatto più o meglio me l'ho fatto io che stai dicendo fred sai che non posso ok le giocattoli siamo loro salve i giocattoli che fai? allora è bene ci siamo aspettati ci siamo messi in creativa possiamo iniziare continuiamo io ho fatto ho fatto un accampamento e ho accorto un po' di maialet si già io l'avevo girato io e lei no io l'avevo girato io prima non erano così erano verso il basso erano verso il basso quindi andiamo a riprenderci la corrente che qua non funziona no porca miseria che mi sono quasi morto allora qua c'è una no Alfred no la posso fare solo io questo fatto ecco ho preso la corrente non lo so ti ho dato il papaccio no no forse avevi ragione te erano verso su ah si me l'ha dato no adesso ah si me l'ha dato era verso il suo allora è vero quindi mettiamolo qua si dovrebbe aprire si ecco 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 eravamo baggati Alfred tu sai cosa succede qua no si io sono andato avanti non è vero non abbiamo fatto niente non abbiamo mai aperto questa mappa vai avanti te ti do la mano la cresta di mano la mano di cresta ti dà sempre buona buona fortuna Alfred non bigliare no Alfred c'è mi seguo quella mano vai avanti tu ahhhh ahhhh eccolo è bruttissimo mamma va facci no ti odio Alfred ti odio tantissimo ti odio mi hai chiuso la porta in faccia Alfred non è coppia mia ascolta ecco ahhh arriva 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 scappa arriva arriva mi ha ucciso sto qua ahhh che mi hai chiuso la porta in faccia ok adesso no 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 ahhhh ahhhh si ti ho salvato Alfred dove siamo vai avanti vai avanti chiudi tira giù vai vai Alfred vai ah sei morto sei morto giovanna vai giovanna le abbiamo fatti giovanna oh calma c'è a te dove' che dobbiamo di qua di qua di qua di qua che dobbiamo andare una scala andiamo andiamo ecco ecco si ci siamo è il finale è il finale c'è Giampina no si chiama si chiama Giampina Giampina you open my case my case perché si l'abbiamo finita siamo a vivire ok avevo mi sono avuto paura quando ho visto quell'essere che si avvicinava eccolo Giamprollo Giangollon Giampino guarda lo picchio ti picchio Giampino tu ti sei per finire il video di come dice di metterci in frattito e guardare la mappa e guardare la mappa